Questa iniziativa nasce sette anni fa, voluta fortemente da ECIP Abruzzo, l'ente di formazione dell'ACNA, per far conoscere l'attività dell'ente di formazione, quindi aprirci al pubblico della formazione, non solo agli artigiani, e per fare un'analisi del fabbisogno di quelle che sono le necessità non solo delle imprese ma anche dei privati cittadini. Quindi con questi corsi cerchiamo di rispondere alle esigenze non solo delle nostre imprese ma anche dei cittadini, dei curiosi, degli studenti che vogliono avvicinarsi al mondo della formazione. Ci saranno 19 appuntamenti, tutti gratuiti, vogliamo dare anche qualche informazione di servizio dove si svolgeranno? Certo, tutte le attività saranno gratuite, questo grazie ai nostri collaboratori che si sono messi a disposizione per effettuare questo maggio formativo. I corsi si svolgeranno tutti qui, presso la sede dell'ACNA Abruzzo, in via Cetteo Ciglia a Pescara. Durante tutto il mese di maggio, cominceremo il 4 maggio, per terminare il 31 maggio. Vi faccio alcuni esempi dei corsi, oggi cominciamo con la qualità, il corso sulla ISO 9001-2015, avremo corsi di degustazione della birra con il birrificio Almond, corsi sull'uso corretto della rete per pubblicizzare e promuovere la propria identità professionale con Blu e tante altre iniziative che invito a consultare sul sito dell'ACNA Abruzzo. C'è il link maggio formativo dove troverete non solo il catalogo delle attività formative ma anche la possibilità di iscriversi direttamente online.